Essere lasciati nel cortile Nivazume è un termine giapponese che significa essere lasciati nel cortile. Indica il periodo in cui un monaco zen, che vuole essere accettato in un monastero, deve attendere fuori dal portone. Se dopo il primo rifiuto il monaco non desisterà e attenderà anche molti giorni, potrà essere accolto nella comunità monastica. Perché? Commento Perché nel percorso spirituale, quando si umilia il corpo fisico con le più diverse privazioni, emergono nell'individuo i corpi superiori. Grazie